Una tre giorni comunque molto intensa. Sì, diciamo che sono stati tre giorni veramente impegnativi, ricchi di appuntamenti, con grandi ospiti illustri che hanno partecipato a questo evento, da Alessandro Cecchi Paone che è il nostro direttore, a Edoardo Raspelli che è l'esperto di culinaria e grande conoscitore dei suoi programmi televisivi. Adesso stiamo aspettando Maria Teresa Ruta che verrà a battere l'asta di oggi, nel quale batteremo le fotografie delle passate edizioni dell'Oasis Photo Contest che devolveremo in beneficenza all'associazione Il Piccolo Carro per i loro progetti di aiuto a questi ragazzi disabili che stanno aiutando loro a crescere e rendere gli indipendenti nei loro progetti. Il livello di queste fotografie com'è? Cresce? Beh, cresce, cresce molto. Quest'anno io come responsabile delle relazioni esterne della rivista Oasis ero in giuria e ho potuto vedere le oltre 45.000 fotografie pervenute da oltre 43 paesi di tutte le nazioni. Il livello sta crescendo veramente ogni anno sempre di più. I fotografi che cosa colgono? Perché vediamo molti foto di animali, ma vediamo animali che abitano, che hanno un habitat. Insomma, sono foto di animali e di persone, poi anche abbiamo visto, ma abitate, non sono foto fredde, sono foto calde. Sì, perché comunque la fotografia naturalistica e soprattutto i fotografi naturalistici cercano di dare un'emozione in più alle loro foto, quindi alle loro composizioni fotografiche per il concorso. Una foto di un uccellino, magari più banale, non viene presa in considerazione. Si cerca di dare più emozioni possibili anche con le immagini proposte. Avrà un futuro questo fotocontest qui a Chiaverano? Perché è sempre più difficile organizzarlo. È sempre più difficile organizzarlo, ma sia noi di Oasis che l'amministrazione comunale tengono molto a conservare questo evento qui da noi, anche perché porta molto turismo. Abbiamo avuto in questi giorni oltre 30 fotografi che sono venuti a ritirare i premi del concorso. I più lontani sono stati dei vietnamiti e due ragazzi dallo Sri Lanka. Quindi siamo molto felici di poter avere sempre più numerosi ospiti stranieri da poter far conoscere il nostro territorio qui. Maria Teresa Ruta, un appuntamento questo ormai imperdibile? Un appuntamento straordinario che mi riporta in questa Chiaverano che io ho amato per lungo tempo, ma soprattutto mi riporta alla natura e a questo concorso internazionale di Oasis, il fotocontest, è fantastico perché le fotografie, quest'anno addirittura 25.000, quindi tantissime, quelle più belle che sono state pubblicate nel libro, sono veramente straordinarie. Non si saprebbe quale scegliere. È un appuntamento con le persone appassionate, tra l'altro di natura, amanti della natura, come lo sono io da quando, da sempre, sono nata così. Com'è Maria Teresa Ruta, fotografa, cresciuta? Perché ci eravamo lasciati con i tentativi. Certo, sono migliorata un po', insomma è passato quasi un anno, quindi mi sono fatta dare qualche lezione. Però resto sempre dell'idea che bisogna vivere i momenti. Poi una fotografia cattura un istante e non necessariamente la foto che stai facendo, che pensi di voler fare, sarà la migliore che ti porti indietro dal tuo viaggio. Perché spesso, quando rivedi le fotografie, noti delle cose che non avevi fotografato, perché magari eri più concentrato su un soggetto e invece il soggetto di fianco o quel qualcosa in più di diverso che poi catturerà la tua attenzione e allora fortunatamente adesso con questi nuovi sistemi straordinari vai, tagli, modifichi, metti in primo piano, zoomi e ottieni quello sguardo, quell'istante, quel baffo del gatto, quel qualcosa che fa la fotografia diversa. Certo, non arriverò mai, neanche ad uno dei maestri amatoriali. Il mio livello è ancora così, insomma, devo fare tutta sta strada qua, quindi figuratevi, però non sono lenta come una tartaruga, quindi cercherò di correre un po'. Chiaverano ancora una volta ospita questo fotocontest, è una chicca per voi questa manifestazione? Sì, è una chicca molto importante che è fatta da una rivista prestigiosa, quindi ci rende molto orgogliosi, ma siamo orgogliosi anche del fatto che tramite questo evento portiamo a Chiaverano, ma non solo a Chiaverano, ma nel territorio del Canavese, tantissime persone da tutto il mondo che sono arrivati a posto per questo evento, quindi più di 100 vincitori che sono arrivati da tutto il mondo, dall'Italia e a tutte le serate che abbiamo fatto abbiamo visto moltissime persone che non erano del posto, quindi sono venuti a posto da noi, hanno riempito gli alberghi, i ristoranti, quindi al di là dell'evento culturale, dell'evento fotografico, è anche un evento economico, quindi qualcosa che è produttivo e positivo per il nostro territorio. Poi che Maria Teresa Ruta conosce a Chiaverano si sa, però c'è Chipaone, però Raspelli, vuol dire portare qui personaggi che scoprono un territorio? Assolutamente sì, lo scoprono e ne sono anche entusiasti, vedere tutta la zona del Lago Sirio, la serra, tutto quello che è il nostro paesaggio naturale è sicuramente un elemento che a loro fa piacere vedere e a noi fa piacere dimostrare che abbiamo delle bellezze veramente uniche. Anche perché qui abbiamo questa serra morenica che forse sfruttiamo poco perché è unica quasi al mondo. Assolutamente unica ed è un elemento su cui puntare per il turismo e per la valorizzazione del nostro territorio, va sicuramente valorizzata ancora di più di quello che stiamo già facendo, facciamo il possibile. Un evento, un contest organizzato da Oasis, una rivista che ha fatto della natura ovviamente la sua ragione, com'è cambiato in questi anni il modo dei fotografi di riprendere questa natura? Per i fotografi è stata una rivoluzione, dagli anni Ottanta quando Oasis si è affacciata sul mercato, ad oggi c'è stata proprio la rivoluzione, il passaggio al digitale ha cambiato completamente questo modo di fare attività. Sono diminuiti i costi per il fotografo e sono aumentate le possibilità. Quindi ciò ha consentito a molte più persone di cementarsi in questa attività che è un'attività passionale perché sono pochi quelli che riescono a farne una professione e soprattutto un reddito. Quindi tutti i fotografi naturalisti hanno una grande passione senza la quale non si può fare nulla. Aumentando il numero è aumentata anche la qualità delle fotografie? È aumentata la qualità delle fotografie, questo grazie alla tecnologia. Ovviamente le macchine fotografiche di oggi consentono tempi di esposizione molto diversi e condizioni di ripresa che una volta erano impensabili. Ovviamente poi moltiplicando il numero dei possessori di macchine che è cresciuto notevolmente ovviamente è aumentata anche la quantità di materiale prodotto. Per un editore andare avanti con una rivista di questo genere in questi momenti che cosa vuol dire? Più orgoglio, più passione o ancora business? Business è purtroppo una parola che ce la siamo dimenticata ormai da qualche decennio. Si va avanti uno perché non si vuole mollare, due perché crediamo che quello che facciamo possa essere in qualche modo utile a creare e a formare una coscienza naturalistica che è fondamentale per l'equilibrio dell'uomo con il pianeta.